Oggi a Torbole si è svolto l'evento dedicato alla commemorazione del settantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, intitolato Thank You America and Alice. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità, con rappresentanti diplomatici italiani ed americani e della Repubblica tedesca. Inoltre erano presenti anche i vessilli della Croce Nera tedesca ed austriaca, i rappresentanti delle basi americane di Vicenza ed Aviano e della 173esima Brigata Paracadutisti. Associazioni d'arma e del volontariato e numerosi gruppi alpini del Trentino. Durante la cerimonia si è tenuto lo scoprimento di una targa in memoria dei caduti per la pace, a lato della stella dedicata al generale Darby. Al termine della cerimonia i pasti sono stati preparati da in nuvola, alto garda e ledro. Al termine della cerimonia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.